Stamattina l'infermiera dell'Asile Piacentina, arrestata mercoledì scorso con l'accusa di corruzione e falso in atto pubblico, è stata sottoposta all'interrogatorio di garanzia. L'infermiera è accusata di aver somministrato soluzioni fisiologiche al posto del vaccino anti-covid e fatto risultare positivi i tamponi antigenici per garantire Green Pass Fasulli ad amici e conoscenti Novax. L'infermiera da mercoledì si trova nel carcere di Reggio Emilia, da dove ha risposto a tutte le domande poste dal giudice per le indagini preliminari, Sonia Caravelli. L'interrogatorio è avvenuto tramite videoconferenza. In seguito, l'avvocato difensore, Nicola Dele Antoni, ha richiesto la scarcerazione attraverso un'istanza di remissione in libertà, su cui il giudice si è riservato di decidere. Rimarrà quindi ancora in carcere. Nel frattempo, il suo presunto complice ha richiesto tramite il giudice difensore Gianmarco Lupi la revoca degli arresti domiciliari, in quanto, ha spiegato Lupi, non credo possano sussistere problemi di reiterazione del reato contestato. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza, avrebbe fornito clienti sia per effettuare i finti vaccini che per i falsi tamponi. L'infermiera, secondo la procura, operava per soli fini economici, facendosi pagare 250 euro per la fasulla vaccinazione e 500 euro per il tampone. Le indagini sono durate un mese e, ad ora, sono stati individuati 18 soggetti ritenuti responsabili di aver corrisposto denaro per ottenere fraudolentemente l'attestato verde, ma si presume che il giro fosse più ampio. Grazie. 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 Grazie.